Come calcolare un ortofoto di una facciata in Agisoft Metashape Pro. Ciao sono Gabriele Mura, sono il leader di Agisoft Coaching e in questo video ti vorrei parlare di come realizzare un ortofoto di facciata per rilevare i prospetti di un edificio. Prima di iniziare ti chiederei gentilmente di iscriverti al canale, di lasciare un like, di lasciare anche un commento. Siamo pronti quindi per iniziare questa vista dall'alto possiamo impostare cliccando sul tasto 5 la vista ortografica quindi esattamente ortogonale. In questo caso ho ricostruito diciamo tutta l'area attorno all'edificio quindi in particolare mi interessa isolare l'edificio. Vado quindi dalla barra degli strumenti e seleziono l'opzione resize region e quindi seleziono appunto tutta l'area circostante l'edificio che mi interessa da rappresentare per isolarla naturalmente. Mi interessa diciamo ricostruire solamente questa parte attorno all'edificio. Quindi per questo mi avvicino notevolmente e quindi seleziono quelli che sono i limiti del mio edificio. Una volta che ho finito l'operazione posso proseguire tornando nella vista magari frontale, spingiando il tasto 3 troverò appunto la vista frontale. Posso usare i comandi di navigazione per ruotare diciamo orizzontalmente l'orbita. Quindi mi posso avvicinare e finalmente posso cercare un elemento rispetto al quale allineare la facciata. Quindi voglio creare un ortofoto quindi cambiando l'orientamento degli assi xy facendoli combaciare con quella che è questa vista qua, cioè la vista frontale. Dunque come posso cambiare questo orientamento? Devo innanzitutto trovare un riferimento xy sulla facciata e quindi inserirlo poi come riferimento appunto xy quando effettuerò la ricostruzione dell'orto mosaico. Vado dunque a selezionare una di queste fotografie. Ovviamente così verrà più semplice da spiegare. Quindi qua mi viene molto semplice selezionare quelli che sono appunto gli spigoli e magari seleziono una foto dove è un pochino più chiara. Eccolo qua. Quindi posso cliccare qua questo punto e poi fare clic su add marker. Quindi selezionato il primo punto tra qualche istante verrà caricato il primo marker. Per vederlo vado nel pannello reference e quindi vedrò point one che sarà il primo punto caricato all'interno della sezione markers. Dopodiché il secondo punto posso selezionare ad esempio la fine di quest'altro appoggio. Il punto 1 corrisponde all'origine quindi all'interno di un piano cartesiano ha le coordinate 00 mentre il punto 2 all'interno del piano cartesiano ha le coordinate 0x. Adesso andrò a inserire quest'altro punto. In qualche modo sarà verticale rispetto al punto 1 e lo chiamerò punto 3. Eccolo qua. Non so se l'ho orientato abbastanza bene. Possiamo comunque vedere le altre viste per aggiustarlo nella posizione corretta. Vediamo se siamo riusciti a posizionarli tutti e tre bene. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 1, 3 e 2 e questo. Vado a verificare nella vista modello che sono stati caricati. E appunto potrò vederli esattamente al di sopra delle colonne. 1, 2 e 3. Eccoli qua. Per procedere quindi vado su workflow e seleziono build them. Da questa finestra imposto l'opzione planar. Lo voglio creare appunto nell'elaborato planare quindi come che schiacciassi tutta la facciata su un foglio. Tipo di proiezione selezioni markers punto 1 e lo 0, punto 2 l'asse x, punto 1 lo 0 e il punto 3 l'asse del y. Quindi corrisponde perfettamente. Utilizziamo come sorgente la point cloud e quindi clicco su ok. Perfetto posso andare a visualizzare il dem dal pannello workspace. Seleziono dem. Questo è effettivamente il nostro dem che riguarda appunto soltanto la facciata. Quindi per costruire l'ortomosaico vado su workflow. Seleziono build mesh. Seleziono come sorgente il dem e creo una mesh dal dem. Il processo ha avuto termine. Dunque adesso posso visualizzare il modello 3d cliccando su 3d model. Dunque ora non mi resta che creare l'ortofoto per questo modello che ho creato. Quindi vado su workflow e clicco su build orthomosaic. Uso come sorgente la mesh e vado a impostare l'opzione planar e imposto inoltre come piano sorgente i markers. Quindi anche in questo caso seleziono la combinazione punto 1 punto 2 l'asse orizzontale per l'asse verticale punto 1 punto 3. Dunque per procedere premo su ok per generare l'ortomosaico. Metto in pausa nel frattempo che la procedura ha a termine. Il procedimento è stato completato clicco quindi su orthomosaic e posso appunto apprezzare quello che è il risultato. C'è qualche problema nella parte qui centrale quindi sicuramente devo cambiare alcune foto che non sono state utilizzate opportunamente. Come abbiamo visto nella ricostruzione precedente qualcosa è andato storto nell'ortomosaico nella parte centrale. Quindi ho subito ripetuto l'operazione utilizzando come sorgente il DEM e selezionando tutte le fotografie come vedete qua in celeste che in qualche modo disturbavano la ricostruzione frontale. Quindi riservando tutte le foto che erano invece scattate da una distanza più ravvicinata. Quindi privilegiate le foto con maggiore qualità. Faccio dunque un clic prima sulla visualizzazione DEM. Comunque vediamo quella che la differenza. Come potrai vedere incredibilmente ci sono aggiustate molte cose. Tuttavia si è un po' impoverita la parte frontale per quanto riguarda le scale e alcuni dettagli. Ora non mi rimane che valutare quali foto possono essere utili alla ricostruzione. Posso rimediare riconsiderando queste fotografie che in realtà sono buone. Quindi questa ci può dare un grosso aiuto. Poi posso controllare le altre. Tipo queste che ho disattivato e possiamo subito riattivare. Quindi per completare vado su workflow e seleziono Builder to Mosaic e nuovamente utilizzo l'opzione DEM perché è un'opzione molto affidabile dai tempi diciamo competitivi nella ricostruzione. Vado dunque nella selezione del piano di proiezione e seleziono i markers. Questi sono gli stessi settaggi che ho utilizzato prima e premo quindi sul tasto ok per confermare l'operazione. Quindi come puoi vedere adesso la situazione è cambiata notevolmente nella parte bassa e quindi ci siamo arricchiti di molto più dettaglio rispetto alla schermata precedente. Dunque magari posso anche puntare un dettaglio in particolare. ad esempio questo punto per zoomare e vedere davvero il grado di dettaglio che è possibile raggiungere. Quindi siamo arrivati alla fine. Se il video ti è piaciuto di nuovo l'invito di iscriverti al canale. Lascia un like magari anche un commento sotto il video. Grazie ci vediamo al prossimo video. Ciao.